Il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è indagato per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di L'Aquila. Il Governatore sarebbe coinvolto insieme a un'altra quindicina di persone, tra funzionari e imprenditori. Le ipotesi di reato riguardano il cantiere dei lavori di Palazzo Centi all'Aquila, sede della Giunta regionale, un intervento riguardante la città di Penne e interventi di manutenzione di case popolari a Pescara. Dopo quella negli uffici regionali di Palazzo Silone all'Aquila, sede della Giunta regionale, sono state effettuate perquisizioni anche domiciliari. Oltre che dai carabinieri, l'indagine è portata avanti anche dalla Polizia di Stato. Mi dichiaro totalmente estraneo alle vicende e auspico una loro rapidissima definizione, ha scritto in una nota d'Alfonso in merito al sequestro da parte dei carabinieri, di documenti sulla gara da 13 milioni di euro per l'affidamento della ricostruzione di Palazzo Centi, sede della Presidenza nel centro storico del capoluogo, resa inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009. Nella mattinata di oggi sono stati comunicati atti di proroga di indagini penali che vanno avanti dal novembre 2015 con rinnovi semestrali e su Facebook il Presidente ha scritto «Ho fiducia nell'operato della magistratura, così come ne avevo in passato quando è stata sempre accertata la liceità delle mie condotte amministrative». L'edificio di Palazzo Centi, al centro del Blitz dei Carabinieri, sede storica di organi regionali, fu acquisito alla patrimonio della Regione Abruzzo nel 2002 e poi sottoposto a un restauro, durato da luglio 2003 a settembre 2006. Da allora è stato sede della Presidenza della Giunta regionale. Nel sisma dell'aprile 2009 ha riportato danni notevoli. I soldi per il recupero sono arrivati per 3 milioni dalla rimodulazione del primo programma a stralcio di ricostruzione degli edifici pubblici e per 10 milioni dalla delibera Cipe numero 44 del 23 marzo 2012. L'appalto è stato caratterizzato da lungaggini burocratiche dovute anche al passaggio di consegne tra il provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna e la Regione stessa, divenuta stazione appaltante con la cessazione dello Stato di emergenza il 31 agosto 2012. Il bando è stato pubblicato il 7 maggio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea con scadenza il 16 luglio, poi posticipata il 27 agosto. Hanno risposto 29 imprese, molte delle quali colossi delle costruzioni, con le offerte valutate da una commissione amministrativa preliminare, poi da una commissione giudicatrice per l'offerta economica e quindi da un organo tecnico per l'offerta tecnica. L'appalto è basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A metà novembre la giudicazione provvisoria a Edil Costruzioni Generali di SRL di Isernia, che ha operato un ribasso del 35,017%, poi divenuta definitiva. Nei giorni scorsi l'amministrazione regionale aveva dato l'ok alla congruità degli atti di gara, ribasso incluso.